Ci troviamo a Milano al congresso 2013 della SIN, Società Italiana di Neurologia, con il professore Riccardo Soffietti, direttore dell'unità operativa di neurooncologia del Dipartimento di Neurologia dell'Università di Torino e presidente della Società Europea di Neurologia. Professore, vorrebbe parlarci dei gliomi di grado terzo, quali sono le loro caratteristiche dal punto di vista anatomopatologico, la storia clinica e questo tipo di argomenti? Ma allora, i gliomi di grado terzo sono forse il capitolo della neurooncologia che negli ultimi dieci anni ha subito i più grossi avanzamenti, a cominciare dall'aspetto patologico molecolare, perché gliomi di grado terzo è l'addizione della classificazione mondiale della sanità, quindi della U, comprende però diverse varianti, diversi tipi istologici che sono talvolta difficilmente distinguibili tra di loro, quindi c'è in genere nella diagnosi una variabilità tra la tipologia diagnostica tra i vari patologi che è molto grosso. Negli ultimi anni abbiamo avuto un crescente impiego della biologia molecolare, cioè abbiamo alcuni fattori molecolari oggi che quando li diagnostichiamo li possiamo accoppiare meglio alla diagnosi istologica, perché? Perché al di là dell'aspetto morfologico al microscopio ci possono predire la maggiore o minore indolenza, la maggiore o minore aggressività, per cui probabilmente la prossima classificazione della U che verrà fuori tra un anno e un anno e mezzo inserirà questi marker molecolari proprio nella diagnostica, quindi la diagnosi non sarà più glioma di grado 3, oligodendroglioma 3, ostocitoma 3, oligodendroglioma 3, ma oligodendroglioma 3 con per esempio la codelezione 1P, con la mutazione di DH1, perché questo aiuterà tantissimo il clinico, perché poi il clinico di fondo deve disegnare gli studi clinici e trattare il paziente nella pratica clinica di tutti i giorni basandosi sull'aspettativa prognostica del tumore, qualunque sia il nome. E nell'ambito di questo gruppo di glioma di grado 3 noi oggi sappiamo che alcuni fattori molecolari ci distinguono due gruppi di tumori completamente diversi, alcuni che sono quelli che hanno questa codelezione 1P19Q che dopo terapia standard hanno delle lunghissime sopravvivenze, 15, 20 anni, 25, sono quasi dei gliomi di grado 2 e invece poi abbiamo un sottogruppo di pazienti che non hanno per esempio questa alterazione molecolare, probabilmente hanno anche altri fattori molecolari sfavorevoli, che invece hanno delle mediane di sopravvivenza che non sono 20 anni ma sono 2 o 3 anni. Qual è lo standard terapeutico che viene normalmente utilizzato e quali problematiche sono ancora aperte? Allora, lo standard che è rimasto invariato indipendentemente direi dalla biologia molecolare è la resezione chirurgica alla diagnosi, cioè noi oggi sappiamo che più estesa la resezione chirurgica possibilmente macroscopicamente completa e dà un vantaggio di aspettativa di vita assolutamente superiore. Tradizionalmente fino a 6-7 anni fa il trattamento standard post chirurgia, visto che è un glioma maligno, era la radioterapia. Questi avanzamenti molecolari degli ultimi anni hanno cominciato a permetterci di diversificare i trattamenti per cui per esempio oggi i pazienti a prognosi migliore ovviamente vengono increscentemente trattati dopo la chirurgia non con la radioterapia che ovviamente è un trattamento pesante, che ha dei rischi di danni cognitivi, ma per esempio con alcuni farmaci a cui questi tumori rispondono di più e che non hanno questi rischi. Mentre ovviamente riserviamo la radioterapia addirittura associata alla chemioterapia come nel grado 4 nei sottogruppi molecolari più aggressivi. Nel caso delle recidive quali sono le problematiche che si vengono ad aprire e quali possono essere delle strategie che si possono mettere a punto? Nel caso della recidiva diciamo che quando recidivano indipendentemente dalla storia più o meno lunga e dal controllo più o meno buono che abbiamo avuto con il blocco di terapia iniziale abbiamo di fronte dei tumori che sono molto aggressivi perché vanno incontro nel corso della storia naturale delle mutazioni, esprimono dei geni che propendono a renderlo più aggressivo, dei geni che per esempio fanno sì che il tumore diventi più vivace come angiogenesi e viceversa. E quindi è chiaro che i farmaci convenzionali standard, quelli che attaccano tutto il DNA in poche parole, ovviamente sono molto insufficienti a controllare questi tumori. Di qui la prospettiva di queste terapie molecolari personalizzate di cui appunto l'antiangiogenetica è la prima solo però è quella più consolidata ovviamente che questo aveva cizzo ma perché ovviamente nei gliomi di grado 4 alla recidiva direi che è consolidato. Negli Stati Uniti è stato registrato dall'FDA, l'EMA europeo non l'aveva registrato tre anni fa fondamentalmente per motivi anche un po' formali di studio ma parliamoci chiaro fondamentalmente perché sendo un farmaco costoso dietro alla registrazione ci sono anche degli issues economici e poi di forza dell'organizzazione dei pazienti. In America le organizzazioni dei pazienti sono fortissime quindi il grosso effetto antidemigeno del Bevacizum ha fatto sì che sia stata una grossa pressione sulle autorità registrative in Europa su quello siamo un pochino diciamo più debolini. Allora è chiaro che adesso la strada della ricerca in generale nei gliomi guardo 4 e grado 3 sta andando il post Bevacizum perché noi sappiamo che una parte di questi pazienti diventa resistente al Bevacizum dopo aver risposto in questa maniera per esempio direi decisamente brillante che è venuta fuori dal nostro studio però poi recidivano e quindi è chiaro che oggi si tratta di identificare i meccanismi che fanno sì che anche quelli che rispondono a un certo punto diventano resistenti perché il futuro ovviamente sono delle terapie combinate che cerchino di bloccare o di ritardare questi meccanismi di resistenza. In questo senso avete fatto delle sperimentazioni di combinazione? Sì certo è stato appena chiuso sei mesi fa e adesso fine anno dovrebbero esserci risultati uno studio che è stato uno studio in realtà internazionale perché ormai sui tumori rari tra l'altro si lavora molto a livello internazionale che è uno studio in cui si è andato a vedere in realtà nei gradi 4 se l'aggiunta al Bevacizumab di un nuovo anticorpo monoclonale che si chiama Lonartuzumab che non è in commercio e che ha delle proprietà anti invasive possa migliorare ritardare la resistenza perché quello che abbiamo imparato che una parte di questi tumori nel momento in cui gli si blocca il farsi nuovi vasi loro ovviamente hanno dei meccanismi di sfuggita per cui attivano altre vie per esempio diventano più invasivi quindi assumono dei pattern di sviluppo indipendenti dai vasi per cui chiaramente a quel livello lì il farmaco antiangiogenetico non serve più perché ha fatto il massimo che poteva e quindi noi speriamo molto che i risultati siano favoreboli perché questo sicuramente potrebbe essere un nuovo avanzamento sicuramente.